Due anni ufficialmente di guerra in Ucraina, un compleanno tra virgolette che abbiamo appena passato, un conflitto che sta devastando non solo le regioni teatro di guerra, ma l'intera Europa, intendendo con questo termine non solo i 27 stati dell'Unione Europea, ma tutto il vecchio continente. Tutte queste armature sono considerate il meglio degli armamenti americani. La conseguenza è anche che quando c'è da vendere questi tipi di armamenti all'interno della NATO, che di base è il più grande singolo compratore di armamenti americani e non solo ovviamente, c'è da comprendere che la dimostrazione, il campo vero di battaglia, che questi armamenti possono essere bucati facilmente, soprattutto con i nuovi droni che la Russia ha schierato, adesso passiamo a parlare della Russia, quindi parliamo dei Lancet 1-2, ma soprattutto il terzo modello, con droni il cui prezzo di mercato, soprattutto adesso che la Russia li sta producendo in maniera molto più sistematica, si aggira a seconda di tutta una serie di, come dire, di mod che si possono integrare tra i 5, i 10, al massimo i 15 mila dollari. Ora, una corazza americana, inglese, piuttosto che tedesca, stiamo comunque su svariati milioni di dollari, quindi capite che ogni volta che una corazza viene distrutta o quantomeno resa inagibile sul campo, il che vuol dire che non può più essere utilizzata e deve essere abbandonata, salvo diventare un bersaglio per l'artigliere nemica, vuol dire sostanzialmente che a fronte di un Lancet che costa 15 mila dollari, dall'altro poi abbiamo un carro che ne costa 3 milioni, 4 milioni, la guerra diventa un fattore economico molto semplice da spiegare.